Vivere le celebrazioni eucaristiche in condizioni di sicurezza e di distanziamento rispettando tutte le norme anti-covid. Anche la città di Salerno quest'anno dovrà rinunciare alla festa patronale di San Matteo, ma se da un lato verranno a mancare le celebrazioni esterne, i fedeli non saranno privati di un clima di fede e di spiritualità. Così l'arcivescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi, questa mattina nel corso della cerimonia di consegna ufficiale del totem igienizzante termoscanner con contatore per accessi donato a titolo gratuito dall'azienda salernitana CTI Foodtech all'arcidiocesi di Salerno Campagna Cerno per favorire ingressi in sicurezza di fedeli e turisti nel periodo del covid per evitare il rischio di assembramenti. L'arcivescovo Bellandi, rimarcando quanto la Chiesa si sia adeguata alle norme per sicurezza e per prudenza, annuncia che si lavora per pensare a come festeggiare San Matteo nel rispetto delle norme anti-covid. Ad un anno dall'arrivo alla diocesi di Salerno dell'arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi cambia la ricorrenza della festa patronale. Rimodulando una serie di abitudini ci sarà la preghiera senza poter organizzare altri momenti comunitari per gli ormai noti motivi. Forse verranno a mancare altre manifestazioni diciamo più esterne, il momento della celebrazione sarà il clou della festività e quindi noi dovremo permettere a quante più persone, sempre nei limiti, però vorranno venire permettere un accesso che sia un accesso sicuro, garantito e quindi appunto nella massima tranquillità per tutti.